La visualizzazione TEP della terapia energetica col processo di Vivien Raubot-Ekoppe, psicologa svizzera, la formazione gratuita avanzata di autoguarigione e la lezione 27B. Ancora una dimostrazione di come lavorare con l'emozione, qui la paura di arrossire. Grazie Irina, che tu fai di terappolta, anche per fare vedere a tutti gli altri, che è facilissimo, puoi anche leggere se vuoi o farlo come vuoi. Bene. Allora, scegli un sentimento. Ho un sentimento molto ridicolo, che è paura, e mi vergogno molto di dirlo, ma è qua. Abbiamo una riunione del liceo, tutti hanno 75 anni, come io, e ho paura di ricadere in quei sentimenti che aveva allora, perché mi ritroverò con un ragazzo, che non so se lo riconosco, che adesso ha 75 anni, che non ho più visto da 50 anni. Ma in quell'epoca era a scuola con lui forse otto anni, e mi piaceva tantissimo. E in questo tempo non lo dicevi, lo sapevano tutti, perché io diventavo arrossiva. Arrossiva ogni volta che i professori dicevano il suo nome per dire qualcosa. E mi vergognava tanto che mi sono comprato degli occhiali che aveva bisogno, e così aveva l'impressione che non si vede più. E ho paura che ricado, che saremo in questo stesso gruppo di allora, dove non mi sentiva molto bene, che ricade in questo, e ho anche paura di enrossire e di farmi la ridicola. Allora, stiamo, stai con questo sentimento, e trova il messaggio, il base. Ti può aiutare pensando all'ultima volta che hai vissuto questo sentimento. Allora, cerco di vedere una situazione. Non è difficile, non lo so. Qualcosa come non dire niente a chi ti piace, perché a lui probabilmente non gli piacerai, e questo non vuoi saperlo. Quanti anni hai? Ti viene niente a questa immagine? Dalle tredici, poi. Ora concentrati su una situazione in particolare, un'immagine. Lascia venire un'immagine di quando hai sentito, forte, questa paura. è quando sto in classe, e dicono il nome di questo ragazzo, che si chiama Giulio. Quando il professore dice Giulio, io già mi enrossisco, mi metto tutto a rossa. E mi regogno, e spero che nessuno lo veda. Mi sentite il suo nome, cosa so? Mi enrossisco, come si dice? Mi arrossisco, e niente, mi regogno, e spero che nessuno lo veda. Qualcuno ti ha visto? Immagino che sì, perché è successo tanti anni, non soltanto una volta. Ha paura di cosa pensa anche lui? Che lui ti può vedere? No, ho paura adesso, perché in questa riunione mi succede lo stesso, divento rosso, faccio la ridicola, non sono al mio agio, non sono me stessa, ricado in queste situazioni di allora. Mi piace bene lavorare con questa paura, che sento qua, caldo, che fa battere il cuore. E vorrei chiedere aiuto superiore. Ok, vogliamo chiedere questo aiuto superiore? A mio se superiore. Allora possiamo chiedere, a mio se superiore, di far venire all'immagine. E quando lo visualizzi, mi piace. Vedo ancora la situazione di allora, che dicono il nome di Giulio e io divento rosso. e mi vergogno. E voglio mettere questa immagine fuori. Allora prendi questa immagine e la porti fuori dal tuo campo. a circa due minuti. E quando riesci a vederla fuori? Sì, sta lì. Vedo i panchi dal lato. Giulio sto seduto qua e Giulio sta seduto qua e c'è tutta l'attenzione in lui. ma io voglio tutto poco. Allora ti chiedo di far passare un respiro parallelo attraverso questa immagine. E' molto difficile. Vuol tornare da me questa immagine e mi stringe qua. E devo fare di tutto che questa immagine rimanga fuori. e forse ho bisogno dell'aiuto superiore. Adesso ci sono come tre enani che portano, che fanno stare l'immagine fuori. Faccio passare di nuovo il respiro parallelo. Ancora? Vuol ritornare? Ho bisogno di più enani, forse di sette enani, per aiutarmi a... Lasciar fuori queste immagini. C'è anche un nodo qua. E provo di nuovo di far passare il respiro parallelo. Adesso sono entrata in classe. Questi uccellini che sto ascoltando in questo momento stanno in classe. E tutti gli allievi, anche il professore, guardano questi uccelli. Ci sono due che volano in classe e non sanno perché ci stanno. e cerco che non mi guardano più. C'è tutta l'attenzione adesso negli uccelli. Io sto lì ancora rosso come un tomate. ma nessuno lo vede perché guardano gli uccelli. Vorrei continuare con la tua uccelli. Sì. Allora, ora prendi il tuo dito indice. La mogila. Con la tua mano destra. Una pioggia. Che attraversa questo mogila. Vedo, non ci penso, ma vedo adesso la pioggia purificatrice che passa per l'immagine. Ci sono ancora gli uccelli. È strano. Adesso cresce un albero in medio della stanza. che tenono i banchi qua con me. I banchi là con Giulio. E nel mezzo c'è un albero che cresce. Un albero di olive. . Ci sono un uccelli. Ci sono più uccelli adesso che le stanno anche nell'albero. c'è ancora la classe, ma vedo piuttosto dell'albero con gli uccelli. Vorrei passare adesso il vento. Allora avvolgi con la mano destra il tuo anulare e lascia che il vento passi per molti canali paralleli, è strano il vento non viene di sopra sino viene da dentro della scuola e soppia così. È strano, i banchi della sinistra dove c'era Giorgio si volano fuori la finestra. Ma l'albero e gli uccelli stanno ancora qua, è vuoto e qua ci sono ancora i banchi dove io sto ancora, ancora rossa come un tomate. Allora avvolgi con la mano destra il tuo lito medio e lascia che i raggi di luce universale prendetelo attraverso il mare. Adesso dove c'è il vuoto è come una spiaggia e comincia il mare. Dopo c'è quell'albero di oliva, tanti uccelli e quasi sulla spiaggia ci sono quelli banchi dove stanno ancora altri allievi e io. Ancora rossa. Adesso si che posso prendere i raggi del sole. Avvolgi il tuo mignolo e guarda come i raggi del sole attraversano queste immagini. i raggi del sole. Crescono ancora di più di arboli di olive. È molto strano perché nella spiaggia ci sono questi alberi con un po' meno di uccelli. e indietro ci sono ancora questi banchi. E adesso sono cambiato in straie. C'è una doppia linea di straie di quelle vecchie di legno. La prossima immagine che... faccio passare adesso i raggi della terra nutritiva. Adesso io mi sono levata e vado in acqua per nuotare. e sta adesso anche giulio. E stiamo notando tutti e due. e c'è una posta del sole. Molto bello. e stiamo nuotando in questa direzione. E forse è un ricordo quando eravamo in classe a Ostia. Ma non sono scura. Ma credo di sì. E stiamo nuotando in direzione del sole. Gli altri stanno nella straia o non so. Tutto le stanno. attrappare in questa direzione. Allora possiamo scurre. La prossima immagine. La prossima immagine. Vi offro da insonnare. Sono andata in questa direzione, allora prendo l'immagine e la porto qua. Faccio che ogni cellula ascolti e veda questo nuovo messaggio, vuoi tenere questa immagine in tutto il corpo, voglio portarle in tutto il corpo, posso lasciarle andare. Lasciamole andare, non tutto il palo, la faccia, i piedi. E poi portiamolo sul collo, nella testa. Lascio che ogni cellula, molto corto, si nutra, facciamo il messaggio. Continui adesso con l'autoprocesso. Dove lavori con la tua emozione. Lo trovi, come sempre, tra la mia pagina web vivienraubo.com, italiano, youtube, visualizzazione TEP28. e qui sarai accompagnato per lavorare con una emozione negativa tua. Grazie. 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 Grazie.